In questo tutorial vi presento una corsista della Nailover School. Abbiamo dato la possibilità ad alcune di loro di dimostrare le tecniche apprese durante la nostra formazione, perché con Nailover è tutto possibile. Ciao, sono Sara Tirri, vengo da Roma. Faccio questo lavoro da tre anni. Ho scelto Nailover sia per le sue master formidabili, perché insegnano veramente molto molto bene, e sia anche per i prodotti che facilitano tantissimo il nostro lavoro e soprattutto è Made in Italy. In questo tutorial vi mostrerò come effettuare un decoro pop art con colori fluo. Con il colore Up 2 iniziamo a realizzare il bordo del disegno. Con i colori DA16, DA01, Up07, GR04, iniziamo a colorare la parte superiore delle labbra. Iniziamo con il giallo fluo. Dopodiché aggiungiamo il corallo fluo. A questo uniamo il rosa fluo. Ed infine concludiamo con il verde fluo. Adesso, sempre con il colore Up 2, andiamo a contornare la parte colorata del labbro superiore. Adesso ripetiamo gli stessi passaggi nella parte inferiore. Ora andiamo a contornare la parte inferiore. Adesso andiamo a riempire la parte interna del decoro. Ora andiamo a realizzare i denti con il colore bianco BV02. Dopo aver ripassato i denti con il colore di A21, andiamo con il colore Up 2 a definire le forme. Adesso andiamo ad aggiungere qualche piccolo dettaglio. Ora andiamo a lucidare con unica top. Questo è il lavoro finito. Un saluto da Sara.